Io non avrei voluto fare l'esame di maturità, io avrei voluto essere maturo, ma non lo ero. Avrei preferito rispetto al compitino che mi prendessero da una parte e mi dicessero guarda, le cose funzionano in questo modo, ma ho il sospetto che forse nemmeno loro erano in grado di dirmelo, oltre al fatto che stavano lì a fare qualcos'altro. Cosa avrei voluto sapere io a 18 anni? Sei cose e le condivido con te. Può darsi che tu le sappia già, bravo, complimenti, può darsi che tu non le sappia già, e allora forse è il caso che ascolti il video, magari se non lo puoi fare adesso te lo salvi e te lo ascolti dopo. L'ultima di queste cose, la settima, perché c'è un plus, beh, può sembrare un qualcosa di moraleggiante, mi ne rendo conto, un po' da boomer, ma secondo me non lo è affatto, sarà tuo a giudicare e magari me lo scrivi nei commenti. Cosa avrei voluto che mi dicesse? Quello che poi ho capito 30 anni dopo. La prima cosa fondamentale è l'attaccamento agli oggetti. Uno vuole di più, è normale che voglia di più, che voglia tutti gli orpellini intorno che rendono la vita più comoda, più piacevole. Me ne rendo conto, è una cosa che desiderano tanti, ma non ti ci puoi attaccare, non sono le cose importanti. La macchina bella, l'orologio bello, il bel vestito, non sono le cose importanti. Ciò che conta veramente è l'impegno che tu hai messo per guadagnartele. È a quello che dovresti prestare attenzione, non all'oggetto finale che è una mera ricompensa. Poi finirai per avere, che ne so, di tanti begli oggetti e penserai che questi definiscono il tuo valore, perché finiamo per pensarlo tutti. E cosa succede quando capita una cosa del genere? È che magari ti si siedono davanti le persone pensando che possono lisciarti il pelo, perché in questo modo ti fanno fare le fusa come un gattino, ti gonfiano l'ego. In realtà tu hai bisogno di essere legato alle competenze per ottenere quegli oggetti e non di essere manipolato da delle persone che vengono lì a fare i grattini al tuo ego per ottenere qualcosa o per aggraziarsi una simpatia. Sono le stesse persone che se perderai quegli oggetti non sentirai mai più. E quindi forse è il caso che cominci a pensare di legarti meno alle cose e di legarti di più alle competenze per ottenerle. E questa è una lezione razionalmente semplice da comprendere, soprattutto se hai già qualcosa. Meno una persona ha, più desidera. E quindi tende a investire di più emotivamente nell'oggetto che poi ottiene. E questo lo rende dipendente da quell'oggetto. Stai attento perché capiterà e potrebbe, come dire, essere un'arma a doppio taglio. La seconda cosa, importante, gli obiettivi. Gli obiettivi è bene averli, ma ognuno ha i suoi. Tu puoi avere l'obiettivo di una famiglia, di un lavoro di un certo tipo. Fondamentalmente tu ti vuoi realizzare come tutti e il modo in cui ti realizzi sono fatti i tuoi, ognuno ha la sua strada. Ma stai attento perché finiamo per dipendere anche dagli obiettivi che raggiungiamo. Perché se tu raggiungi l'obiettivo di avere la famiglia, devi coltivare anche una parte di te che non ha quella famiglia. Cioè la tua individualità devi continuare a coltivarla. Se tu hai l'obiettivo, che ne so, di fare i soldi, ecco tutti in questo periodo storico sembrano avere l'obiettivo di fare i soldi, va bene, ma devi coltivare quella parte di te che può farne a meno. Perché altrimenti finirai per dipendere da quegli obiettivi raggiunti. E questo ti renderà schiavo. Il tuo valore sarà legato a quegli obiettivi che hai raggiunto. E con orali perdessi, qualora ti separi dalla tua compagna, perdi il lavoro, fai un investimento sbagliato, che ne so. Ecco, che succede in quel caso? Tu devi essere una persona in grado di fare a meno anche di quello che ottiene. Anche qui, focus su chi sei, sulle tue capacità, sulle tue competenze. Vedi, molto spesso quegli obiettivi non li raggiungi perché hai fatto una buona scuola, hai preso un buon voto, hai fatto l'università, ma li raggiungi per le competenze trasversali che ti hanno permesso di usare al meglio quelli che sono le tue capacità e le tue competenze. Può darsi che in un settore specifico qualcuno sia più bravo di te, ma non ha quelle competenze trasversali che gli permettono di usare la sua competenza meglio di te. Molte persone che conosco, e che hanno fatto anche un discreto successo nella vita, non sono le più brave in quella cosa che hanno studiato, ma hanno sviluppato delle ottime competenze per usarla bene. Sono quelle. E quindi è molto importante, anche qui, di nuovo, le competenze. Quelle competenze anche trasversali, la capacità di gestire le proprie emozioni, di stare in mezzo agli altri, di sviluppare l'intuito, la determinazione, la costanza. Sono queste le cose che veramente vincono. Tra il talento e l'allenamento, vince sempre l'allenamento, ricordatelo. Il talento che si allena, beh, certo, quello è l'uno su un milione, che ovviamente poi farà la storia di quella attività, di quello sport, di quella situazione. Ma tra quella persona che arriva in cima e tutte le altre persone che possono fare successo, c'è uno spazio enorme che può essere riempito proprio dal tuo allenamento. È chiaro? Quindi mi raccomando, stai attento a questo. Impegno. Questa è la cosa importante. Poi, altro aspetto fondamentale che riguarda proprio l'impegno. I sogni. Perché tutti noi abbiamo dei sogni. Io voglio fare quel lavoro, io sogno di fare quella cosa, io sogno di quella cosa lì, e devo fare quella cosa a tutti i costi, mi ci fisso. E se non la riesco a ottenere, continuo insistentemente, in maniera ottusa. Guarda che se tu non alleni la capacità di poter fare a meno del tuo sogno, non ti potrai guardare intorno e non potrai vedere tutte quelle occasioni che ti sfrecciano ai lati e che magari se ne cogli una, una soltanto, tu raggiungi il tuo obiettivo. Perché essere bloccati in questo è una forma di egoismo. Cioè, io posso avere successo soltanto in quella cosa lì, un egoismo ottuso che ti impedisce di allargare lo sguardo anche a tanti altri modi con i quali tu puoi avere il tuo successo, quello a cui ambisci. Molto spesso nella vita capita che ci proviamo, falliamo e dobbiamo rinunciare ai sogni. e il successo che poi ottieni lo ottieni non realizzando il tuo sogno, che ad alcuni capi l'hai inteso, ma mettendo i tuoi sogni in quello che fai. Questa è la grande chiave di volta che spesso ti permette anche poi di trasformare quello che fai nel tuo sogno. È un concetto complesso, me ne rendo conto, ma forse dovresti lavorarci sopra. è davvero molto importante, fa la differenza. L'autonomia. Molte persone hanno obiettivi che dipendono dagli altri ed è anche normale, la nostra vita è fatta di relazioni, me ne rendo conto, ma stai attento a questo. Tu devi imparare ad appoggiarti a te stesso, non al lavoro che ti dà qualcuno, allo stipendio che ti dà qualcun altro, all'amore che ti dà qualcun altro. Sono tutte cose importanti, ma tu hai bisogno di appoggiarti a te stesso. Se io perdo questo, io posso fare affidamento su di me. Questo è molto importante. So che può sembrare un discorso un po' da boomer, però intorno a noi, in questo momento, non molto distante, ci sono milioni di persone che fino a un paio d'anni fa avevano i nostri stessi standard di vita, lo smartphone, i social media, portare i figli a lavoro, andare all'università, uscire con gli amici, poi un giorno si sono trovati in una condizione devastante. Forse chi di loro ha più probabilità di farcela, chi è in grado di poter rinunciare a quello che aveva, perché adattarsi a una nuova condizione, adattarsi a una situazione diversa da quella che ti eri immaginato nel tuo futuro, richiede la capacità di rinunciare a quello che avevi fino a poco fa. E non è che non fa male, fa malissimo. è difficilissimo, è dolorosissimo, ma è necessario per adattarsi a una situazione diversa. Questo è il segreto della resilienza. Poi, altro aspetto importante, la comprensione. La comprensione è un elemento fondamentale, comprendere gli altri ti aiuta tantissimo. Anche se il tuo lavoro fosse quello di fare il commerciale, avresti bisogno di comprendere gli altri per vendergli qualcosa. Ok? Hai bisogno di comprendere gli altri per farli felici, hai bisogno di comprendere gli altri per capire se ti vogliono fregare, hai bisogno di comprendere gli altri, ma puoi farlo soltanto nella misura in cui comprendi profondamente te stesso. E questo è il grande limite di tutti. Più profondamente ho incontrato me stesso, più profondamente incontrerò gli altri. Quindi capiterà spesso che tu ti troverai a comprendere gli altri più di quanto loro comprendano se stessi. e alle volte ti troverai ad avere a che fare con persone che non comprendi. Evita di giudicarle, altrimenti finisci per sentirti o inferiore o superiore. Di dare giudizi dozzinali. Non è questo che devi fare. Quello che devi fare è dire ok, questa persona mi può insegnare qualcosa o questa persona la posso incontrare fino a un certo punto. Altrimenti il rischio è anche quello di proiettare sugli altri che hai bisogno, il desiderio di essere compreso da qualcuno che non potrà farlo perché non ha compreso profondamente se stesso o non si è incontrato. E quindi perdere tempo con persone che sono limitanti e non, come dire, motivanti, non ti aiutano a crescere. È chiaro? Ecco, questo non vuol dire che le devi mettere da parte perché ognuno nel suo piccolo è in grado di darti qualcosa. Anche la persona peggiore è in grado di insegnarti qualcosa. E questa è un'umiltà che devi assolutamente mantenere. Le relazioni. Devi essere capace di gestire le relazioni. Con chi passi il tempo lo devi decidere tu. Se ti accontenti per un lavoro per un amore per un affetto per un'amicizia finirai per passare il tempo con relazioni di bassa qualità un ambiente dove si fanno sempre gossip prima o poi ti contaminerà un ambiente molto negativo prima o poi ti contaminerà lo devi mettere in conto. Non sei immune non sei superiore puoi essere più consapevole ma non superiore e quindi quello che puoi fare è scegliere le relazioni anche a costo di qualche sacrificio e questo richiede osare un po' rischiarsela. Il fallimento fa parte del percorso e devi avere il coraggio di affrontarlo metterti anche nelle condizioni di doverlo affrontare perché molto spesso il coraggio ce lo costruiamo come mettendoci nella condizione di doverlo affrontare per forza allora l'affrontiamo superiamo affrontiamo le nostre paure e questo costruisce il nostro coraggio difficilmente una persona parte coraggiosa è più facile che parta incosciente e un pochino di incoscienza va anche bene porta con sé alcuni rischi l'ultima quella che forse sembra moraleggiante ma non lo è è l'abuso di sostanze e quelle proprio non ci vogliono le dipendenze avrai mille dipendenze dal cibo dalle abitudini dalle persone e se aggiungi anche le dipendenze dalle sostanze quello ti limiterà tantissimo perché le dipendenze dalle sostanze ti porteranno ogni dipendenza ti porta a organizzare il tuo mondo intorno ad essa e quindi lo rimpiccolisce e questo ti impedisce di fare i passi necessari per essere chi meriti di essere spero di non averti annoiato magari me lo scrivi nei commenti un abbraccio e buona fortuna grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti